questo programma è offerto da Grazie a tutti Gentili amiche cacciatrici vere e cacciatori veri ben ritrovati a questo specialissimo appuntamento con la nostra rubrica test armi da caccia che abbiamo dedicato ad uno dei fucili che hanno segnato la storia delle armi da caccia ad animaliscia nell'ultimo ventennio si tratta del sovrapposto Benelli 828U in versione black ossia con la carcassa anodizzata in nero la passata stagione abbiamo testato questo fucile in versione però con carcassa cromata nell'ambito della caccia al colombaccio posticcio alle anatre e al fagiano stavolta ci spingeremo sulle starne nella splendida riserva Modena a Cortona in provincia di Arezzo la nuova creazione Benelli 828U è un fucile inedito che oltrepassa un po' il concetto di sovrapposto tradizionale in un modo molto innovativo e personalizzato tanto da essere soltanto un lontanissimo parente di tutti gli altri basculanti dello stesso tipo costituendo de facto una categoria a sé stante infatti questa arma Benelli è bella, robusta, sicura durevole, user friendly e possiede quella marcia in più in termini di prestazioni e caratteristiche rispetto a quanto sinora sul mercato si è visto frutto di una attenta ricerca e di un know-how straordinario le caratteristiche dinamiche sono un punto di forza del sovrapposto che idealmente deve essere leggero e soprattutto ben bilanciato la leggerezza però di per sé non servirebbe a nulla se il fucile non garantisse un'adeguata resa balistica ma soprattutto se non fosse confortevole e controllabile al massimo livello fatto questo che richiede anche una forte dose di adattabilità dell'arma alle preferenze e alle esigenze fisiche e specifiche dell'utente l'828U in tal senso si presenta come un concentrato di equilibrio legni e meccanica si fondono dando vita ad un sovrapposto dal peso ideale e dalle forme ergonomiche e funzionali il sovrapposto viene utilizzato in tutte le cacce ma ad essere privilegiate sono quelle per le quali si utilizzano caricamenti con 28-36 grammi di pallini anche ad alta velocità spesso impiegando bersagli in rapidissimo movimento con necessità quindi di imbracciata brandeggio e puntamento rapidi e istintivi l'828U abbina la possibilità di variare la lunghezza del calcio ad un sistema di riduzione del rinculo e del rilevamento fatto che rappresenta una grande novità e lo è ancora di più considerando che oltre ai calcioli sono disponibili anche i naselli intercambiabili per modificare piega e vantaggio secondo le proprie specifiche esigenze queste idee innovative per un sovrapposto hanno preso la forma del sistema Progressive Comfort il quale comprende il riduttore di rinculo naselli e calcioli intercambiabili una variazione micrometrica di piega e vantaggio con ben pensate 40 possibili combinazioni originate da 5 piastrine per la piega e 4 piastrine per la deviazione l'imbracciata immediata e la messa sempre in mira ora sono davvero possibili per tutti grazie alle innumerevoli possibilità di modulare piega e deviazione secondo le proprie personali esigenze con l'828U quindi potete assicurarvi prestazioni ottimali e comfort istintivo su misura veniamo adesso al comparto tenuta e sicurezza ora sicurezza significa molte cose tra cui anche tenuta nel tempo delle chiusure anche se spariamo quantitativi impensabili di cartucce e se capitano cartucce che fanno registrare magari pressioni più elevate di quello che è lo standard due parti dello stesso meccanismo che pur separandosi tornano sempre perfettamente unite un congegno semplice e geniale che assicuri una chiusura forte e affidabile con l'annullamento degli stress meccanici sulla bascola questa è assicurata da una piastra in acciaio che inferiormente porta un aggetto orizzontale forgiato a culla e dotato di due risalti posti uno per lato ad arma in chiusura la piastra impegna inferiormente il gruppo con l'aggetto orizzontale mentre la sua parte superiore entra all'interno di una sede ricavata sotto alle due appendici superiori del gruppo canne in questo modo il vivo di culatta è letteralmente sigillato e l'insieme piastra-canne costituisce un'unità a sé stante uno dei vantaggi del sovrapposto sta oltre che nelle strozzature anche nella minore lunghezza complessiva a parità di lunghezza della canna il sovrapposto infatti ha un vantaggio in termini di inerzia durante il brandeggio ma anche di velocità nell'imbracciata e di puntamento istintivo rispetto alle altre armi sull'828U è stato scelto un bilanciamento ideale proprio in corrispondenza dei perni di rotazione con spostamenti contenuti del centro di gravità con qualsiasi lunghezza di canna che viene prevista perché è stato privilegiato per queste una configurazione light senza però rinunciare alla massima robustezza e con qualche vantaggio in più in termini ovviamente di resa balistica la strutturazione dell'intero complesso privilegia sicurezza semplicità, durata e affidabilità pur esaltando le caratteristiche di qualità dello scatto e consentendo un tempo di percussione decisamente contenuto per questi motivi l'828U lo si può utilizzare in ambienti polari o tropicali quindi ve lo potete portare anche all'estero in qualsiasi posto tranquillamente la chiusura dell'828U è semplicemente incrollabile nel tempo e garantisce inusitati margini di sicurezza il monoblocco dell'828U è un pezzo di forma complessa realizzato con tolleranze strettissime caratterizzato dalla presenza di due protuberanze cilindriche sulle quali vengono investiti i tubi canna la lunghezza dal vivo di culatta alla parte frontale delle appendici è tale da comprendere le camere di cartuccia il raccordo è quindi realizzato all'interno del tubo canna le camere di cartuccia fanno parte integrale del monoblocco pertanto la loro tenuta è ultrasolida per il suo 828U Benelli ha scelto canne powerbore già collaudate in passato sul nuovo Raffaello con forature massime pari a 18,5 mm selezionate da esperti tecnici balistici per garantire prestazioni superiori sull'828U tutti questi particolari sono stati curati al massimo tanto che tutte le canne tutte le canne montano strozzatori cryo choke sottoposti a tempra criogenica lunghi 7 cm internamente molto curati e accoppiati ai tubi in modo esemplare anche le canne dell'828U sono sottoposte a trattamento di sotto raffreddamento criogenico fatto che influisce non solo sulla giustezza del tiro e sul suo mantenimento nel tempo ma possiede anche positivi riflessi sul piano della resa balistica per il mio test sul campo dell'828U a caccia di starne ho scelto una munizione di grande affidabilità e tecnologia di casa Baschieri e Pellagri la MG2 Mythos 40HV acronimo per High Velocity con la linea MG2 Mythos infatti Baschieri e Pellagri ha deciso di seguire la strada dell'alta velocità grazie all'impiego della performante polvere MG2 allo scopo di garantire abbattimenti puliti anche a distanze di tiro importanti poi la casa bolognese ha deciso di impiegare speciali pallini in piombo temperato protetti da un trattamento di nichelatura che permette di ottenere rosate perfette ad alta energia residua e consente una maggiore resistenza alle sollecitazioni nei modelli con borraggio in plastica la concentrazione di rosata viene assicurata anche da una borra appunto antigelo con contenitore pretagliato a sei alette ad elevato contenimento questa cartuccia è infatti caricata con 40 grammi di piombo ad alta velocità e borra in plastica antigelo questa cartuccia viene propulsa dalla polvere Baschieri e Pellagri MG2 una polvere progressiva particolarmente adatta a caricamenti medio pesanti ad alta velocità si tratta di una polvere di colore tipico rosso acceso avente una composizione a base di nitrocellulosa laminata modificata la cartuccia MG2 Mythos 40HV da noi testata a starne a bossolo da 70 mm 40 grammi di piombo nichelato dotato di borraggio appunto in plastica antigelo il fondello della cartuccia è da 20 mm del famoso tipo Gordon e l'orlatura è quella standard del tipo stellare questa cartuccia presenta una pressione di 850 bar per una velocità alla bocca di ben 430 metri al secondo ed è disponibile sul mercato con pallini che vanno dallo 0 2 3 4 5 6 7 e 8 quindi in grado di fornire al cacciatore la possibilità di cacciare dalla starna alla volpe passando per le oche il fagiano il colombaccio la lepre e le anatre minori e maggiori si tratta quindi di una cartuccia che sfrutta al meglio la sua grande velocità e la sua generosa carica di pallini nichelati adatti per cacciare prede anche importanti e impegnative bene amici dopo le doverose presentazioni delle stelle del nostro videotest adesso andiamo a goderci le loro performance a caccia amiche cacciatrici vere e amici cacciatori veri salute a voi mi trovo qui in una splendida azienda agrituristica venatoria che si chiama Modena a Cortona provincia d'Arezzo nel cuore della Toscana insieme ad uno dei gestori Luca Stincardini mio amico che avete già visto in azione in altri video siamo qui appunto per testare un fucile speciale questo è un classico dico classico perché è un sovrapposto che è un fucile classico però è benelli nuovo ma sta diventando diciamo la pietra miliare la nuova pietra miliare del sovrapposto l'828U in versione black perché il sovrapposto è un po' il fucile che generalmente chiama un tipo di caccia in riserva ma in riserve particolari che predilige vero? ecco perché siccome non siamo in una riserva normale ma siamo in una riserva vera allora devi avere un fucile vero? esatto e quindi Luca sai noi già conosciamo la tua riserva ma ora lo dobbiamo dire ai nostri telespettatori che magari si sono persi qualche video che abbiamo già fatto la tua è una riserva un po' particolare sì un po' particolare non tanto perché ci siano cose particolari e lufo e gli schiumi esatto perché è messa in un contesto dove la caccia è veramente caccia nel senso che è un territorio non costruito per fare una riserva ma è un territorio che poteva essere tranquillamente quello a caccia programmata e quindi è un territorio dove abbiamo tutto quello che si può trovare fuori di una riserva cioè il bosco il prato un ambiente un po' più difficile come può essere un roveto non è il classico la classica riserva con il campo il fossettino leggero che ti tiene i fagiani ecco qui io dico sempre alle persone che ci contattano per la prima volta non vi aspettate il mezzo qua iodromo ma aspettatevi un posto per andare a caccia per sudarvi i fagiani le starne e le pernici quindi è un ambiente e quindi anche cani buoni cani buoni che devono saper riportare e saper scovare fermare quando si scelgono le starne e le pernici perché come sappiamo le starne e le pernici poi per chi è amante del cane da cerca qui è l'ambiente è il top che ci può essere bene quindi il top per tutto top cartucce top fusile top cacciatore top cani top riserva ragazzi siamo a top bene Luca Luca Robocop adesso lo vedete in azione a presto arrivederci a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti. 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 Sono molto contento che tu abbia potuto rivedere la tua posizione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.